a pochi giorni dall'annuncio della gravidanza di diletta leotta il settimanale chi ha svelato in esclusiva il sesso del bebè che porta in grembo ebbene la conduttrice sportiva starebbe al quarto di mese di gravidanza e starebbe aspettando una femminuccia a quanto pare la notizia giunge da fonti molto vicine alla siciliana la quale dopo la vacanza a dubai in compagnia del suo loris è volata a madrid per lavoro dove è stata paparazzata dal magazine esperto di gossip mentre si ristorava prima di tornare in italia la coppia insieme da soli sei mesi si starebbe dunque preparando per accogliere una bambina e a costruire la loro famiglia lo scorso 24 marzo il volto di da zone ha postato un video insieme al compagno per annunciare la sua dolce attesa e poco dopo ha condiviso la prima foto del suo pancino lungo il ma al di là di questo non ha dato ulteriori dettagli sulla gravidanza e bisognerà vedere se deciderà di confermare lo scoop lanciato da chi diletta leotta una delle più note conduttrici italiane comincia la sua carriera a 17 anni comparendo in una trasmissione calcistica sull'emittente regionale antenna sicilia laureata in giurisprudenza alla luis partecipa a diversi concorsi di bellezza tra i quali miss muretto nel 2006 e miss italia nel 2009 pur non passandole dopo di che nel 2011 sbarca mediaset con il programma il compleanno di la 5 sull'omonima rete la grande svolta arriva l'anno seguente quando approda sky diventando meteorina di sky meteo 24 da lì passa poi a sky sport per la stagione sportiva 2015 2016 consolidando al sua carriera nel 2017 presenta insieme a francesco facchinetti la finale di della 79esima edizione di miss italia trasmessa sulla 7 nel 2018 lascia sky e debutta ad azon in cui lavora ancora oggi al di là del calcio diletta è anche uno dei volti di radio 105 dove conduce il suo programma insieme inoltre la leotta ha preso parte anche ad altre avventure come il film di giampaolo morelli sette ore per farti innamorare dove interpreta il ruolo di se stessa o il festival di sanremo del 2020 dove è co conduttrice di una serata inoltre la leotta inoltre la leotta